Ciao a tutti e tutte, è il 6 di maggio e penso sia utile fare un punto su tutta la partita economica legata al coronavirus. Innanzitutto stamattina sono usciti i dati di previsione della crisi, dati dall'Unione Europea e la cosa è pesantissima. Per l'Italia è un disastro, 10 punti in meno di prodotto interno lordo e l'anno prossimo, il 2020, l'11% di deficit rispetto al prodotto interno lordo, quindi una botta da 160-170 miliardi in meno di produzione quest'anno. L'anno prossimo ci sarà un po' di ripresa ma non si arriverà alla situazione di prima e quindi già nelle previsioni è una crisi che durerà di più dei due anni ed è destinata quindi non a andare giù e a rimbalzare ma andare giù e poi si vede che cosa succede. Primo punto, problema economico pesantissimo. Secondo, sta emergendo con ogni evidenza il fatto che i soldi stanziati e il modo in cui sono dati da parte del governo non sono sufficienti per far fronte ai bisogni delle persone che hanno perso il reddito. E c'è di tutto perché qualcuno è coperto con la cassa integrazione ma moltissime persone non sono coperte dalla cassa integrazione, stavano in lavori neri, magari erano artigiani, commercianti, avanti, non ci sono, le erogazioni dei soldi sono lentissimi e soprattutto non si sa che cosa succede. Allora, io credo che questa situazione qua è immediatamente la prima emergenza che abbiamo. Bisogna che il governo faccia una misura pulita, uguale per tutti, che non sia demandata ai comuni, che non sia farraginosa, che sia fatta centralmente e che dia luogo a tutti coloro che dichiarano di avere perso il reddito dei soldi per poter vivere. Poi si faranno le verifiche se qualcuno ha truffato o va messo in galera. Ma intanto bisogna garantire che tutti gli italiani siano in condizioni di poter arrivare alla fine del mese senza dover andare né dalla Camorra, né al Banco dei Pegni, né a rubare. C'è questo problema fondamentale, questa è l'emergenza che abbiamo oggi. In questa situazione c'è stata ieri la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, quella che viene chiamata la Corte di Karlsruhe, perché è nella cittadina di Karlsruhe, che si è pronunciata rispetto alla questione della Banca Centrale Europea, in particolare rispetto a che cosa aveva fatto Draghi nel 2015 sulle emissioni. Che cosa fa questa sentenza? Questa sentenza dice che va bene quello che è stato fatto, ma nella sostanza poi dà addosso pesantissimamente, sia alla Corte diciamo di europea, di giustizia, quella cosiddetta del Lussemburgo, dicendo che applica i trattati fantasiosamente e nei fatti, rivendicando la primazia della legge tedesca rispetto alle norme europee, e poi attacca durissimamente la Banca Centrale Europea, dicendo che la Banca Centrale Europea non ha valutato costi benefici delle sue operazioni sul quantitative easing e quindi, qua è il punto, la Corte Costituzione tedesca obbliga la Banca Centrale Europea e il governo tedesco, la Banca Centrale tedesca e il governo tedesco, a fare pressioni affinché la Banca Centrale Europea chiarisca quello che sta facendo. Diciamo questa è la sostanza della collega. Che cos'è questa roba qua? Questa roba qua è un attacco durissimo, come non c'era mai stato, alle misure prese dalla Banca Centrale Europea ed è una messa in discussione, come non c'era mai stata, della possibilità dell'Unione Europea di legiferare in qualche modo, di fare delle cose anche quando pestano i piedi alla Germania, perché questo è il nodo. Tutta questa sentenza, c'è un punto, sul piano economico fa ridere dal punto di vista della teoria economica, ma il punto è molto semplice, loro dicono una cosa, la Banca Centrale Europea ha messo dei soldi e quindi ha abbassato i tassi di interesse di tutta l'aria. Questa roba qui per qualche paese è andato bene e per qualche altro paese invece fa un problema, perché in Germania, perché questa è la sostanza, chi ha risparmio, i fondi pensione, la casa, se l'è vista con i tassi di interesse diminuiti, cioè chi aveva i soldi in banca non guadagna più tanto come prima e avanti così. Quindi loro dicono, e qua non va mica bene, perché quello che va bene per uno non va bene per l'altro e soprattutto non va bene per noi. Questo è il punto. Cioè, tradotto in italiano, la Corte Costituzionale tedesca nella sostanza dice che si può mettere sotto chiave il Parlamento greco e obbligare i greci a fare quello che vuole l'Unione Europea, che si può affamare i greci e i milioni di persone, questo va tutto bene, ma se invece per caso qualcuno che ha dei soldi in banca in Germania guadagna un po' di meno di prima, questo non è accettabile, questa è la logica. È una logica da destra nazionalista tedesca, da destra prussiana tedesca, da destra imperialista tedesca, che è la logica con cui si è espressa la Corte Costituzionale, che è stata sollecitata da un ricorso fatto da personaggi di destra tedeschi, sia economica che politica, tra chi ha fatto il ricorso c'è uno dei fondatori del partito di destra tedeschi, noi gli amici di Salvini, quelli che dicono prima i nostri, ci sono anche in Germania, e quelli lì in Germania, dei prima i nostri, hanno chiesto che ci fosse questa pronuncia della Corte, sono molto felici della sentenza che c'è stata, che formalmente li dà torto, ma sostanzialmente dice che bisogna, diciamo così, tutelare gli interessi di tutti i tedeschi prima di qualsiasi altra cosa che serva in giro. Questo è il punto. La destra nazionalista tedesca fa con questa causa e poi con la sentenza un passo, diciamo, fa un proclama politico, mette una bandiera in qualche modo, e le destre polacche e ungheresi immediatamente applaudono. Le uniche destre che non applaudono non sono i nostri, perché i nostri sono dei vigliacchi, parlo di Salvini, Lameloni e questi, che a livello europeo stanno con questi qua, a livello delle destre, dei nazionalisti, e poi quando viene fuori che i nazionalisti tedeschi fanno i loro porci comodi contro l'Italia, e allora lì fan finta di non conoscerli, ma invece sono quelli della famiglia delle destre europee che hanno fatto questa cosa qui. La sentenza non è una sentenza, non è un comizio, è una sentenza molto articolata, molto dettagliata, hanno messo su tutta la giurisprudenza possibile, cioè è una sentenza pesante, una sentenza pesante. Allora, di fronte a questo, è evidente che questo è un, diciamo, un cazzottone dentro una discussione, secondo me bisogna porsi la domanda come mai l'hanno fatto e a che cosa puntano, perché bisogna capire questo? Allora la mia opinione è la seguente, che la destra tedesca e la Corte Costituzionale si è mossa in questa direzione, ha fatto questa sentenza perché il modo in cui la Banca Centrale Europea si è mossa in questi ultimi anni non gli piace, perché è un modo capitalista e liberista, non c'è nessuna discussione, ma non rispetta integralmente gli interessi delle classi dominanti tedesche, questo è il punto. Attenzione, non è una discussione tra socialisti e liberali, no no, sono liberali tutti, ma in qualche modo la Banca Centrale Europea si è mossa su una logica, diciamo, del capitale continentale e invece qua c'è la destra tedesca nazionalista, amici dei Salvini, che invece pone il problema della primazia, prima noi, prima i nostri. E quindi questa è la cosa, che il quantitative easing, le cose messe in pista non gli piacciono, non gli piacciono, non gli piacciono e quindi lavorano a stoppare. E che obiettivo hanno? Hanno l'obiettivo di far saltare tutto? Secondo me no. Secondo me loro hanno l'obiettivo di contrattare. E infatti la sentenza che non mette in discussione, cioè non dà ragione ai ricorrenti sul punto che avrebbero potuto far saltare tutto, no, su quello non dice no. Ma poi mette il governo e la Deutsche Bank sotto pressione perché contrattino più duramente. E la sentenza serve a questo. nella trattativa a legare, a porre un vincolo alla Merkel e alla Bundesbank affinché tengano una posizione durissima. Io non lo so se erano d'accordo con la Merkel oppure no, va a sapere, nessuno di noi lo sa, ma di sicuro questo è l'effetto. Rafforzare una posizione oltrancista del governo tedesco e della Bundesbank dentro la trattativa che è in corso. Allora noi di fronte a questo abbiamo due possibilità perché appunto il mondo non funziona mai che a un certo punto c'è un'esplosione e cambia tutto. No, no, c'è sempre un appare come una guerra di movimento ma sovente una guerra di posizione. Allora che cosa fare dentro questa situazione? Ci sono alla fine due strade. La prima è che ci si acconcia. Cioè si dice ma qua questi sono grossi, la Germania è il principale paese e quindi bisognerà trattare sulle posizioni che dicono loro. Se succede questo, succede una cosa molto semplice, che già oggi in Italia i soldi non sono sufficienti ad affrontare la crisi, sarebbero ancora meno nei prossimi anni e in più esploderebbe un problema che fino adesso è bloccato dall'azione della Banca Centrale Europea e cioè lo spread. Perché è evidente che se si stesse, adesso io non entro nei particolari tecnici, ma se si stesse dentro il meccanismo che chiede la Corte Costituzionale tedesca, si metterebbero dei lacci tali alla Banca Centrale Europea da renderla abbastanza inefficace rispetto alla lotta allo spread. E quindi un paese come l'Italia, ma varrebbe per altri paesi a partire dalla Grecia e dalla Spagna e dalla Francia, vedrebbero una doppia botta. E quindi io penso che non si può star dietro. Secondo me va detto con chiarezza, ah sì? Voi pensate così? Bene. Le istituzioni europee possono andare avanti, la Banca Centrale Europea, come è già successo nel passato, può decidere a maggioranza perché la Germania è un grande paese, ma vale il 20% del capitale della Banca Centrale Europea, non l'80, vale il 20. E come è successo nel passato si possono prendere posizioni e assumere decisioni anche contro il parere della Banca Centrale tedesca. E quindi io penso che bisogna dire con tutta chiarezza che bisogna andare avanti sulla strada che noi abbiamo indicato. Ed è che la Banca Centrale Europea deve avere un ruolo maggiore. Noi non chiediamo che vengano messi dei soldi dagli altri paesi per pagare i debiti dell'Italia. Non chiediamo questo. E sappiamo che questo non è possibile. Noi chiediamo che la Banca Centrale Europea, di a luogo, faccia, formi un fondo sanitario europeo che serva per tutta Europa, per contrastare la pandemia, per garantire il reddito a tutti coloro che hanno perso il lavoro e per avviare una riconversione ambientale del complesso dell'apparato industriale del paese. Questo chiediamo. E su questo noi dobbiamo continuare la battaglia. E diciamo ai nostri governanti e a tutti i governanti, guai a voi se vi mettete a trattare sulla base fissata dalla Corte Costituzionale tedesca. Perché quella base lì bisogna avere il coraggio di dire che è incompatibile con qualsiasi idea di costruzione dell'Europa. Se è così, è meglio dire che ci annettano alla Germania, almeno votiamo in Germania. Perché non c'è più l'Europa. C'è la Germania che decide e gli altri che obbediscono. Quella roba lì è inaccettabile. E quindi io penso che bisogna andare avanti. Bisogna dire, cari signori della Corte Costituzionale tedesca, voi vi fate le leggi per la Germania? Benissimo. A un certo punto la Germania deciderà che cazzo fare. Ma non è possibile che ci sia adegui a quella roba. E ripeto, la Germania pesa, ma pesa il 20%, non pesa l'80%. E quindi dovrà fare i conti col fatto che se gli altri vanno avanti dovranno decidere loro che cosa fare. Non noi in un angolo. E quindi l'Italia l'ultima cosa che deve fare è mettersi in un angolo così simile. No, bisogna portare avanti la battaglia per mettere al centro la Banca Centrale Europea. Perché quella è la chiave di volta della possibilità di uscita della crisi per tutta l'Unione Europea. Anche per la Germania. Perché questi deficienti della destra tedesca non si rendono conto che le loro merci che producono alla fine per il 60% le vendono in Europa. E quindi se l'Europa salta per aria, salta per aria anche loro. Allora noi non siamo per far saltare per aria. Perché pensiamo che bisogna che la gente possa vivere decentemente, senza vivere, come diceva, scororsi pericolosamente. bisogna poter vivere decentemente. Ma questo non si può fare mettendo la testa sotto lo stivale di qualcuno. E quindi giù decisi. Questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca segnala una difficoltà della destra tedesca. Sono fatti loro. Bisogna andare avanti e metterli davanti alla possibilità che l'Europa non sia esattamente quello che gli piacerebbe ai prussiani. Capita che sia così. E noi dobbiamo andare avanti sulla richiesta della BCE e per questo vi invito di nuovo a firmare la petizione perché noi abbiamo bisogno di costruire un movimento popolare consapevole su questa questione della BCE e nello stesso tempo diciamo con chiarezza al governo Conte che in Italia è necessaria una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Perché qui, mentre facciamo tutta questa discussione sull'Europa, ci vogliono dei soldi e ci vogliono dei soldi subito per gli artigiani che hanno perso il lavoro, per i commercianti che non apriranno più il bar, che non apriranno più il negozio, per i disoccupati che non ce la fanno andare avanti, per chi aveva un lavoro al nero e adesso non ce l'ha più, per quei giovani che hanno perso il lavoro, che erano partite IVA e non ce l'ha più, per tutti quelli ci vogliono dei soldi. E allora litigando perché li tiri fuori la Banca Centrale Europea, nel frattempo li dobbiamo far tirare fuori i ricchi. Non li possono mica tirare fuori i pensionati e chi già adesso ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese e quindi una tassa sulle grandi ricchezze sopra il milione di euro obbligatoria, subito, altro che Conte che dice che non vuol fare la patrimoniale. E chi li paga sti soldi per mettere le cose? Allora questo diciamo noi. BCE, 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 continuare a litigare su questa strada con chiarezza, con nettezza e dall'altra parte patrimoniale sulle grandi ricchezze. Penso che queste due qua sono le due battaglie che noi dobbiamo fare per dire una cosa chiara, dalla crisi non è possibile che la povera gente ne esca fuori peggio e che coloro che avevano un lavoro alla fine non ce l'abbiamo più, perché questo non è più un paese civile e quindi c'è bisogno di fare adesso una battaglia su dove prendere i soldi in modo che non ci sia che tra 15 giorni ci dicono sì sì avete tante ragioni ma non ci sono i soldi. Non è possibile, così come non è possibile che ci siano i soldi per le imprese e non ci siano per i disoccupati. Bisogna che ci siano per intanto per garantire alla gente di arrivare alla fine del mese ma per averli BCE e patrimoniale. Ciao a tutti.